Sono cinque le liste che sostengono la candidatura a sindaco di Francavilla al Mare di Luisa Russo. L'assessore uscente della Giunta Luciani si propone alla città con due partiti e tre liste civiche di centrosinistra ed una rosa di candidati che abbracciano tutta la società civile e le professioni. Continuità ed innovazione, queste le parole d'ordine di Luisa Russo. È una squadra formata da consiglieri e assessori uscenti che quindi porteranno la loro esperienza, l'esperienza fatta con un'amministrazione uscente che è stata sicuramente un'amministrazione virtuosa ma fatta anche di tante persone giovani, non solo anagraficamente ma giovani perché per la prima volta si avvicinano alla politica e porteranno quindi nuova limpa, nuovo entusiasmo, nuove idee. A Francavilla si confronteranno al primo turno otto candidati, un numero elevato che spinge Luisa Russo ad un appello al voto utile da parte degli elettori anche, eventualmente, per evitare il ballottaggio. Credo che se per mettersi in gioco e candidarsi a sindaco occorre rappresentare delle squadre complete sotto tanti punti di vista e ritengo che forse la nostra è l'unica squadra che possa davvero amministrare la città bene nel segno del cambiamento e nel segno dell'innovazione ma sempre continuando comunque un processo virtuoso che è partito dieci anni fa e che non si deve assolutamente fermare. Grazie Grazie